Salve a tutti e ben ritrovati per questo nuovo video, questo è il primo di una serie di episodi dove andrò ad analizzare le vostre partite, quindi se avete delle partite da inviare fatelo subito sul server discord nel canale analisi partite per youtube. Detto ciò oggi vediamo la partita che mi è stata inviata da Air France, giocata a 15 minuti contro 1872, un avversario che aveva circa 100 punti in più di lui, partita secondo me molto interessante, qui il bianco ha giocato e4 e Air France ha risposto con c5, difesa siciliana, la partita è continuata con cavallo c3, quindi siciliana chiusa e Air France ha giocato d6, una mossa normale dove probabilmente il nero cerca di rientrare nella variante Neidorf della siciliana, però il bianco ha un'ampia scelta di possibilità qui e ha giocato alfiere c4, alfiere c4 è una mossa abbastanza buona perché comunque mette pressione sulla casa f7, però c'è anche da dire che dopo una mossa come e6 non si sa bene quale sia il compito di questo alfiere, quindi probabilmente il bianco poteva giocare tranquillamente cavallo f3 per cercare di rientrare in una Neidorf, per esempio dopo d6, cavallo f3, cavallo f6 da parte del nero, d4, pedone per d4, cavallo per d4, a6 rientriamo in una Neidorf che è considerata una delle migliori apertura in assoluto. Comunque dopo d6 l'avversario ha giocato alfiere c4, sviluppa un pezzo e Air France qui ha continuato comunque con a6. A6 mi piace come mossa, l'idea è quella di giocare b5 e poi c4 per intrappolare l'alfiere in qualche modo. L'avversario ha risposto con cavallo f3, sviluppa un pezzo e Air France qui ha giocato subito b5, mossa molto interessante, ripeto, perché ovviamente su alfiere b3 basta giocare c4 e l'alfiere è intrappolato. Quindi qui dopo b5 il bianco ha risposto con alfiere d5, guadagna un tempo sulla torre e giustamente Air France ha giocato torre a7, mossa unica. E questa posizione è già molto interessante perché qui possiamo dire che il bianco ha sviluppato tre pezzi, mentre il nero praticamente ha sviluppato zero pezzi. Ha mosso la torre in a7 ma non si sa quanto sia utile la torre in a7. Ora, il bianco però ha un problema veramente grosso in questa posizione e il problema è l'alfiere in d5. Perché è un problema? Perché l'alfiere in d5 rischia di essere perso. Infatti qui il bianco ha un'unica mossa, quella di giocare d3. Se non dovesse giocare d3 ma dovesse giocare per esempio una mossa normale come arrocco, dopo e6, alfiere b3 segue c4 e l'alfiere qui è perso. Quindi il nero già guadagna un pezzo dopo sole sette mosse. Dopo torre a7 in effetti il bianco ha giocato d3, quindi ha giocato la mossa migliore. E Air France ha proseguito con e6, quindi guadagna un tempo sull'alfiere. L'alfiere deve andare per forza in b3. E poi ha giocato alfiere b7, quindi ha deciso di sviluppare un pezzo. Ora, in questo caso il nero poteva anche sviluppare almeno uno dei due cavalli. Io per esempio in questa posizione avrei fatto cavallo c6 o cavallo f6. Alfiere b7 non è una mossa sbagliata, ma il problema è che comunque rende la torre passiva, perché la torre in a7 aveva delle case in settima traversa dove poteva collocarsi. Quindi alfiere b7 effettivamente manda un pochino fuori gioco la torre in a7, però comunque non è una mossa sbagliata perché sviluppa un pezzo e controlla la lunga diagonale di case bianche. Ok, qui l'avversario ha proseguito con alfiere g5, sviluppa un altro pezzo e Air France, essendo indietro con lo sviluppo, deve cercare di sviluppare i pezzi e possibilmente cambiarli. Ed è stato molto bravo perché ha giocato alfiere e7, quindi sviluppa un pezzo e cerca subito di cambiarlo con l'alfiere. Il bianco ha giocato donna d2, quindi sta proseguendo con lo sviluppo, bravo a non cambiare. E qui Air France ha giocato una mossa molto interessante che è h6. H6 di fatti guadagna un tempo sull'alfiere, quindi chiede al bianco cosa voglia fare del suo alfiere, se mandarlo in e3 oppure se catturare. Il bianco qui decide di catturare in e7 e Air France giustamente sviluppa un pezzo, giocando cavallo e7 e preparando arrocco. Qui il bianco continua con arrocco, Air France gioca cavallo c6, quindi sviluppa un ulteriore pezzo. Diciamo che il nero ancora è un pochino indietro con lo sviluppo, ma la situazione non è grave perché, come vedete, il bianco non ha nessuna entrata sul lato di re, perché comunque h6 è utile a controllare la casa g5. L'alfiere comunque batte sul pedone e6, quindi su una muraglia di pedoni. Quest'altro cavallo non può entrare in gioco in nessun modo, la donna neanche, e quindi il nero qui non sta rischiando praticamente niente, la posizione è completamente pari. Qui il bianco decide di giocare a3, è una mossa che ci può stare perché il nero poteva in qualsiasi momento giocare cavallo a5, cavallo per b3, quindi a3 probabilmente serve a dare una casa all'alfiere, e qui Air France decide finalmente di arroccare, quindi ha messo il re al sicuro. L'unico problema di questa posizione, secondo me, ripeto, è la torre in a7 che è rimasta lì, però per il resto la posizione è comunque pari. Il bianco qui decide di giocare torre a1, cerca di attivare le torri, e qui Air France fa una scelta che io personalmente non condivido, ma che porta a una situazione molto interessante da analizzare, e la mossa è cavallo d4. Cerchiamo di capire a cosa serve cavallo d4. innanzitutto, secondo me, l'idea di Air France è quella di catturare l'alfiera in b3, ma non solo. Lui vorrebbe tanto che il cavallo del bianco catturasse il cavallo in d4, e dopo c per d4 creare una debolezza al bianco in c2, perché sarà molto difficile per il bianco a giocare c3. Qui ovviamente il bianco ha catturato, il nero ha catturato, e quindi dopo cavallo e2, come vedete, il bianco qui si ritrova con una debolezza che al momento però è difesa dall'alfiere in b3. Quindi i pro di questa mossa sono che è riuscito a creare una debolezza. Ma i contro sono che ha reso questo alfiere un alfiere molto buono. Perché? Perché l'unico modo, praticamente, per difendere il pedone in d4 è quello di giocare 5. Quindi lo difende con il pedone, ma il problema qui ora è che questo alfiere inizia ad attaccare il re, e quindi mette pressione sulla casa f7. Mentre l'alfiere del nero qui è un alfiere cattivo, perché va a battere sul pedone in e4, che è difeso dal pedone in d3. Quindi sicuramente questo alfiere vale molto di più dell'alfiere del nero, e la torre in a7 comunque non sta facendo praticamente niente. Però comunque la situazione ancora è molto interessante, perché il nero per risolvere i suoi problemi potrebbe da un momento all'altro giocare d5, poi alfiere per d5, torre c7 per cercare di attaccare la debolezza in c2. Vediamo come è andata. Qui il bianco aveva la possibilità di giocare sul lato di re, giocando f4, torre e1, pedone per e5 per cercare di attaccare la casa f7. Quindi f4 era una mossa praticamente obbligata qui. In effetti il nero qui non ha tantissime mosse se non quella di fare per esempio re h8, perché il pedone qui era inchiodato, quindi f6 non la poteva fare. E ora il bianco ha un po' di attività sul lato di re, giocando per esempio cavallo g3, seguita da torre f1, decidendo poi di giocare f5 oppure pedone per e5, e sarebbe stato il modo corretto per il bianco di giocare in questa posizione. Anche perché non è così semplice giocare per il nero. Invece, dopo e5 da parte del nero, il bianco secondo me commette un errore abbastanza grave, gioca cavallo g3. Cavallo g3 non serve a granché, perché non si sa bene dove questo cavallo stia per andare, se non in f5, però ovviamente il nero cattura subito nel caso di cavallo f5 da parte del bianco. E infatti dopo re h8, ottima mossa da parte del nero, perché schioda il re appunto dall'inchiodatura, il bianco gioca cavallo f5, ma cavallo f5 è un errore molto grave, è un errore posizionale grave, perché il bianco qui dimostra di non comprendere la posizione. Per quale motivo? Perché innanzitutto dopo cavallo per cavallo, pedone per cavallo, ora il nero si ritrova con un alfiere fortissimo che controlla la diagonale a8 h1 e in più questo pedone è praticamente perso. Basta giocare donna f6, donna per pedone, e il nero si ritrova con un pedone in più e con un forte attacco, quindi sicuramente il nero qui inizia a stare meglio. Ma in questa posizione arriva probabilmente il primo errore, e forse anche l'unico errore di Air France che gioca donna d7. Donna d7 effettivamente è una bruttissima mossa. Per quale motivo è una bruttissima mossa? Perché dà comunque la possibilità al bianco di giocare f6. In più, non essendoci gli alfieri campo scuro, è molto importante controllare le case scure. Invece donna d7 non si capisce bene quale sia l'intenzione, se non quella di attaccare immediatamente il pedone, ma questo pedone può essere comunque spinto. Quindi a me non piace per niente. Sarebbe stato molto meglio giocare donna f6, guadagnare tranquillamente questo pedone, perché comunque il bianco non può fare praticamente niente per difenderlo. L'unica mossa è giocare g4, ma come vedete bene si indebolisce. però Air France qui ha deciso di giocare donna d7. Errore. Il bianco giustamente continua con f6 e qui Air France gioca torre g8. Ottima mossa torre g8. Torre g8 minaccia la casa g2. Quindi l'idea di Air France è quella di aprire la colonna g e mettere pressione su g2 tramite una combo di torre e alfiere. Qui giustamente il bianco ha giocato f3 per cercare di indebolire l'alfiere e Air France ha giocato un'ottima mossa re h7 che va a difendere il pedone h6 che comunque era attaccato dalla donna. Quindi molto bravo a trovare re h6 e anche a giocare torre g8. Benissimo. Qui il bianco continua con pedone per g7 e Air France gioca torre g7 per g7 e ora è pronto a raddoppiare le torri sulla colonna g. Quindi la posizione ancora continua a essere più o meno pari però il nero inizia ad attaccare e questo alfiere tra un po' si farà sentire perché comunque questo pedone è inchiodato. Quindi teoricamente qui il nero può già giocare alfiere per pedone. Quindi il bianco ha giocato re h1 per togliersi dall'inchiodatura del pedone g2 e Air France ha giocato torre a8 con l'idea di giocare torre g8. Tutto logico. Quindi donna f2 da parte del bianco. Non sono per niente d'accordo con questa mossa perché comunque è una mossa che apparentemente non fa niente. Quale sarebbe il vantaggio di avere la donna in f2 rispetto a d2? Secondo me non sussiste. Il bianco poteva in qualche modo cercare di difendere la casa g2 giocando magari torre e 2 e poi cercare di trovare attività sul lato di donna giocando c3. È l'unico modo per il bianco di riuscire a contrattaccare l'attacco che sta per avvenire. Invece il bianco qui ha giocato donna f2. Mi sembra un po' una perdita di tempo. Air France giustamente continua con torre g8 quindi mette pressione in g2. Torre g1 da parte del bianco per difendere. Ma come vedete questa torre è passiva. Quindi il bianco sta facendo di tutto per difendersi in maniera disperata ora. Qui arriva donna f5 da parte di Air France. Ottima mossa con l'idea di giocare donna h5 per iniziare a mettere pressione sul re. Quindi torre af1. Come vedete è in modalità super difensiva il bianco. E qui secondo me a gioco corretto già il nero dovrebbe riuscire a vincere. E Air France è stato molto bravo perché ha giocato comunque donna h5. Quindi iniziando ad attaccare il re. Il bianco ha giocato c3 ma è un po' tardi. Quindi sta cercando attività al centro. Ma secondo me ormai è troppo tardi. Air France qui ha giocato una mossa molto interessante che è torre g3. Sfruttando il fatto che il pedone in h2 sia inchiodato. Quindi di fatti non permette la spinta al pedone g3. E l'idea del nero è quella poi di giocare torre g5 per cercare poi in qualche modo di dare scacco matto al re. Qui l'avversario ha giocato alfiere d1. sta cercando di difendere la casa f3. E Air France ha giocato donna h4 perché ha avuto paura della spinta in f4 da parte del bianco. Invece in questa posizione io avrei comunque provato torre g5 perché f4 è una mossa completamente perdente. Qui il nero può vincere la partita in maniera spettacolare giocando torre h3. Ovviamente sta minacciando scacco matto in 1. Quindi su pedone per torre c'è torre mangia h2 scacco matto. Ma torre h3 non può essere presa perché c'è l'alfiere che inchioda il pedone. Quindi molto divertente. Pedone h2 inchiodato. Pedone g2 inchiodato. Interessante. Qui l'unica cosa che poteva fare il bianco era catturare la donna. Ma vediamo che neanche questa funziona perché il nero avrebbe preso di torre e ora il matto è praticamente imparabile. Dopo per esempio donna g3, unica mossa per difendere lo scacco matto. Segue torre per g3. Il nero finisce con un pezzo in più ed è pronto comunque a giocare di nuovo torre h3 per cercare di dare scacco matto. Infatti ora lo scacco matto qui è inevitabile. Peccato che dopo al fer d1 il nero qui abbia giocato donna h4 perché aveva secondo me partita già vinta. Perché l'idea di al fer d1 è quella di giocare f4. È molto complicata la posizione ma è più complicata per il bianco rispetto al nero perché comunque il bianco si ritrova a difendersi in maniera disperata. Quindi ha giocato donna h4 il franz comunque mantenendo ancora la pressione e il bianco qui effettivamente non ha tante mosse. Ha giocato al fer d2. Una mossa del tutto passiva per vedere cosa fa il nero. Al fer d2 però è un errore molto grave. Infatti qui ora segue il piano con torre g5 e poi torre h5. Questa volta il franz non si è lasciato sfuggire. Dopo torre g5 infatti l'avversario ha cercato di giocare al centro con pedore mangia d4 ma dopo torre h5 qui la partita è finita. Perché dopo donna per g3, donna per g3 qui il nero guadagna la donna e il bianco non ha niente. Non può fare niente per parare lo scacco matto. L'unico modo è giocare h3 ma segue torre mangia h3, pedone mangia, donna mangia, scacco matto. Io direi che comunque è stata una partita molto interessante da parte di Air France. Ha giocato molto bene, è stato molto bravo perché è riuscito a essere molto bravo con i tempi quindi non ha praticamente mai perso tempi. Ha commesso qualche errore posizionale come per esempio donna d7 a un certo punto che non aveva praticamente senso. Ha rischiato giocando cavallo per d4 però c'erano pro e contro in quella posizione e quindi direi comunque e quindi farei comunque il complimento Air France per questa partita perché è stato davvero bravo soprattutto nel finale vincendo con scacco matto praticamente. Io direi che per questa partita è tutto. Vi invito nuovamente se avete partite belle da farmi vedere di postarle su discord. Grazie a tutti per la visione di questo video. Ciao e alla prossima!